ancora lontani ma i tifosi della Sir già sognano. Il merito è tutto delle convocazioni che le rispettive nazionali hanno effettuato nei confronti dei giocatori bianconeri. Sono ben nove i perugini impegnati nelle competizioni internazionali che hanno trasformato la Sir in una squadra mondiale. Ci racconta tutto Moreno Castellani. Siamo in tempi di vacanza agonistica da squadra di club ma la Sir Safeti fa già sognare. E sì perché è vero che la squadra è ancora dispersa. Vero anche che i lavori al palevangelisti non sono ancora iniziati ma i sirmaniaci già gungolano. Perché sono ben nove i block devils convocate con le rispettive nazionali e la Sir appare sempre più come una squadra mondiale. La nazionale azzurra innanzitutto dove coach Blengini ha convocato Virarelli, Buti e Zayzef impegnati per la World League a Sydney in Australia vincendo contro i padroni di casa e il belgio ma sconfitti dalla Francia. La prossima settimana un altro impegno sempre di World League dove la Serbia di Atanasievic e Podrascanin è partita a razzo anche grazie al contributo dei due atleti bianconeri. Dall'altra parte dell'oceano a Rio de Janeiro se la vedono invece gli Stati Uniti di Russell e l'Argentina di De Cecco. Sul fronte degli europei invece ci sono l'Austria di Berger e la Bulgaria di Cernokozev. Nove moschettieri quindi in giro per il mondo, nove moschettieri che Perugia aspetta con ansia. Come aspetta di vedere come finirà il derby di domenica in World League fra Italia e Stati Uniti dove sarà presente un gran bel pezzo di Sir in attesa di vederli finalmente tutti insieme.